insomma io ho sempre sostenuto che il jazz è una musica semplice fatta per gente semplice il che non vuol dire sempliciotta semplice nel senso che accetta quello che l'artista propone il jazz è una cosa così immediata immediatamente semplice e il bello del jazz è proprio la semplicità il problema è che sta semplicità però in fondo è complicata da morire questo è il problema o no